Musca firma un contratto per i supermissili Sarmat. FONTI KIEV, un'unità ucraina d'elite dietro l'attacco in Crimea. La guerra in Ucraina è giunta al 174esimo giorno. Mosca fa sapere di aver firmato un contratto per produrre i supermissili Sarmat e Putin accusa l'Occidente di aver preparato per l'Ucraina un futuro da carne e da cannone. I vertici dell'esercito russo dicono di non aver bisogno di armi nucleari per raggiungere i loro obiettivi. L'ambasciatore ucraino in Vaticano chiede al Papa di visitare Bush. Un alto funzionario ucraino, parlando con il New York Times, in condizione di anonimato, afferma che le esplosioni nella base militare in Crimea sono state provocate da un'unità militare ucraina d'elite che operava dietro le linee nemiche. Fonte, HTTPS2.www.msn.com.it.notizie.mondo.mosca firma un contratto per i supermissili Sarmat. Fonte, Kiev un unit per cento c3 per cento a zero Ucraina di per cento c3 per cento a nove liti dietro l'attacco in Crimea barra a 10 GOG. OCD uguale MZPKVD uguale 6 ABF 11 EDF 4640 B1 A10 F2 FFF F12860 F8D. Sarmatis grave, «enonimato» – Sarmatis grave, «enonimato»